Grazie mille 335, sinistra, dal gol feco. Precevuto dal gol feco, autorizzato 35, sinistra. Grazie, Milo. Grazie. 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 Taglia, lo sto. Grazie. Vado italiano. Grazie, mit... This is a custom check, and we have to write to ask you some information. Where are you going in Italy? To Milan. To Milan, where? You have friends, you have parents, you have family. Non tiene scritta la direzione di donde vive il tuo hermano, perché lo conosce... Ah, vabbè, è in galera. Ah, è in galera, sta. Ma usted le pensa che... che c'ho so il loco? E por qué? Eh? Por qué? Desdias a Madrid, non tiene roba. E por qué? Are you reading my messages? No. He's reading my messages? No, no, no. Yes, I can. Non c'è n'aspetto del concreto. Che è comida questa? Eh? È comida o no? Che è? Che è questa? Che è? Comida? Banana, che è? Non si può mettere a ritare un aeroporto, giusto? Sarebbe molto più semplice. Mettiamo lì, controlla l'ingresso, tutti nudi, entrano, li mettiamo tutti in una bella tucca bianca, i bagagli vestiti li spieghiamo due giorni dopo, dopo i vari controlli, siamo a posto. Più sicuri di così si muore. Grazie a tutti.